Chiuso per ferie fino al 17 dicembre, recita il cartello affisso all'ingresso del bar Andrei, ma in realtà le due settimane di chiusura dello storico locale di Via Magnolfi, recentemente acquistato da un cinese, hanno ben altra motivazione. Si tratta di una serrata forzata imposta da un'ordinanza del sindaco Bifoni per aver accertato la vendita di alcolici a minorenni. Il provvedimento è stato emesso dopo un controllo della polizia. In particolare, il titolare del bar aveva servito un liquore con gradazione pari a 35 gradi e a 5 ragazzini minorenni, dei quali due tra i 14 e i 16 anni. Secondo la polizia non potevano esserci dubbi sulla minore età dei ragazzi che erano entrati nel bar con il casco in mano e con aspetto e voce che dimostravano la loro giovane età. Il titolare non ha chiesto il documento e ha somministrato il liquore richiesto. Il provvedimento è stato notificato ieri sera dalla polizia municipale. L'abuso di alcolici da parte di minori desta particolare preoccupazione. Molte sono le iniziative intraprese sia sul fronte dei controlli da parte di tutti gli organi preposti sia sul fronte educativo, sottolinea il sindaco Matteo Bifoni. Sono fondamentali iniziative nelle scuole come Alcol e Responsabilità, la campagna che da anni la municipale porta nelle classi già dalle scuole medie per sensibilizzare i giovani sui rischi legati all'alcol. Grazie. Grazie.